Perché sei qui a manifestare? Perché il mondo sta morendo e voglio fare qualcosa anche nel piccolo. Sono qui a manifestare perché questo mondo è sbagliato e noi vorremmo uno migliore. Perché voglio salvare il mio futuro e il futuro dei miei figli quando avrò una figlia che si può. Siamo qui a manifestare perché abbiamo diritto a vivere. È un nostro diritto vivere in salute, essere rispettati e se il clima sta cambiando non è per caso. Siamo qui per i nostri diritti e è la cosa più importante manifestare per i propri diritti perché significa che ancora abbiamo voce, è una cosa importante. Quante le scuole dovrebbero sapere quanto sia importante questa manifestazione? E lei è mia prima, io non vado a manifestare a qualsiasi cosa, ma quando si parla di un argomento così importante che da qui a dieci anni ci ragguarderà in maniera molto più insistente allora bisogna essere partecipi e venire in piazza. Manifesto perché non c'è nessun piano da vivere.